Il procuratore di aggreggimento Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella hanno convalidato il sequestro del veliero Alex della ONG Mediterranea, disposto dalla Guardia di Finanza. La nave è stata sequestrata dopo aver forzato il blocco entrando nel porto di Lampedusa dopo due giorni di attesa. I PM hanno modificato la formula del sequestro da preventivo approbatorio. Nella sostanza non cambia nulla ma questo tipo di procedura agevola e aumenta alcune garanzie difensive nella fase delle indagini preliminari. Risultano iscritti in registro degli indagati il comandante della barca Tommaso Stella ed il capo missione nonché deputato di Leu Erasmo Palazzotto. I due sono indagati per la gestione del salvataggio in mare in acque libiche e per il successivo sbarco di migranti nel porto di Lampedusa. Per il capo missione se l'indagia dovesse essere formalizzata trattandosi di una parlamentare dovrà essere richiesta l'autorizzazione a procedere.